Velocemente vorrei presentarvi, diciamo, tre artisti che sono in rappresentanza di tutti questi bravissimi artisti. I tre artisti più giovani, Ludovica, la Gaia e il beato fra le donne, Noa. Eccoli qua, questi altri bravissimi artisti. Grazie, grazie, grazie. Molto bene signori, si continua, si continua la grande, adesso un modo, un altro momento.